con mobilia megastore avrai la massima qualità e il massimo sconto per arredare casa e grazie ai tempi supplementari potrai pagare senza conto in 48 mesi a interessi zero o in 60 mesi con prima rata a 90 giorni e in regalo puoi avere un divano a due posti con letto o un televisore lcd e per tutti un pallone da calcio mobilia megastore vince sempre in convenienza e qualità ebba c'è la concorrenza perché è una squadra vincente a proposito di squadra vincente forza Italia metteteci alla prova tutti i giorni a caserta sud e salerno est